Oh, ma vado meglio in discesa o per spesso? No, no, vedi, vedi. Guarda Agnosa, come ti ha? Eh, ma scivola, non ce la può fare. E' stato bravo, ma sei che non ce la fa, Pierino? Ma come non ce l'ha fatta? Dio tanto, a me mi ha scivolato. Bravo! Anche se ti ha una pulita. E' come me? Carca! Io non ce l'ho fatta. A me lì mi ha scivolato. Questo è il Fenoni, Pierino, Silvio e io. Morti! Fa vedere il boccio. Vabbè, venga qua. Non ci credo. No, no, va. Qui, 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 Alta Valle del Tevere. Monte Nero. Capitano Domenico Pompeo. Il più grande. Arriverai Gingarelli? E' quasi non fa. Vabbè. 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 Vabbè!